E' bello a tutti ragazzi, siamo venuti con il video, raga oggi torniamo con un nuovo video su Fortnite Però non qua con le mille news, ma Fortnite, Fortnite Però sempre di news perché vi devo mostrare assolutamente un trailer Il trailer pazzesco del capitolo 3 Però prima raga, andiamo alla intro Ok raga, siamo anche con Prof, il mio amico Prof Posso parlare? Si Bella, bella Mettiamo pronto che tra poco vi svelo il trailer Ma dov'è? Pazzesco Dov'è sto trailer? E' la come cacchio si chiama E' l'ho trovato su TikTok Anzi in realtà l'ho sentito da Martez che vi lascio nel suo video in descrizione Ah lo conosco E volevo farlo anch'io il video Però prima andiamo sempre alle casettine raga Comunque raga, mi stavo guardando là per sbaglio Che per le news ora sono abitato a guardare quella Si vede la tua faccia Si vede la tua faccia Si vede la tua faccia? Ah Comunque raga, ci vediamo quasi alle casettine per non perdere tanto tempo Quindi ci vediamo alle casettine Ok raga, eccoci Visto un po' facendo la suspense Perché raga, il video di oggi è pazzesco Quello il trailer Ma io qua mai non ci sono andato fra Eh, l'ho scoperto grazie a Gigi Comunque metti privato e despelli Menti privato Fatto, fatto Menti Eh Però Sai già Oh Eh, non puoi giocare, sto amore di strancio Vabbè raga, scusate l'interazione Scusate, scusate Eh, ero un mio amico Il problema è che si unisce sempre, quindi Quando sei con me, metti sempre il prelato, ok? Ok Ma che dobbiamo fare? Ovviamente prendiamo prima le armi e poi verso... Quando arriva alla safe verso... Che copre... Che copre le casette Iniziamo Perché vi voglio dare un po' di suspense Oggi mi sento cattivo, sì Eh, perché è sciomonito, ecco perché si senta cattivo Comunque ovviamente devi vedere il video... Oh rega, caso mai da domani, da domani, io vado da Mosè Tostiare, comunque se me lo faccio un altro video, io da Mosè Tostiare però E comunque non ti si vede, nata, poi, come ho usato Tostiare Dovresti mettere una guapica Eh, come tu non mi consiglio YouTube? Mille Stendini Eh? Mille Stendini Mille Stendini Mille Stendini tutto attaccato No E non il numero, te lo dico già Sì No, no E non il nome, il nome di YouTube Sì, è Mille Stendini Ma tutto attaccato? No E com'è? Staccato Mille? Mille staccato Stendini Allora 204 iscritti non stai registrando tra no è una registrazione programmata vabbè si vede che non guarda il mio video test trovato fratisto e fra dal vivo tra due giorni sì che ragazzi ricordo in descrizione troverete la live programmata quella non si vede vabbè avete capito che la live programmata sarà per il quattro non vedo l'ora è brutto ma tu è brutto aspetta no però è vero che aiuti canali ma dove cacchio devo andare scusa non ho capito ma ma tu dove sei ma sei lì sotto no sono sopra anzi vabbè raga mi faccio vedere adesso il trailer però prima devo ammazzare questo l'ho fatto l'uomo prendi comunque raga questo che vedete a schermo ovviamente promettono rimpicciolito a sinistra se no non vedete il resto anzi non a sinistra perché se no non vedete la mia bella faccia vabbè ho fatto ho fatto la parodia con bella faccia di roma comunque raga vi lascio a schermo la come si chiama il video il trailer il trailer del capitolo 3 non no non mi ricordo no del capitolo 3 te che ne sai il video del capitolo 3 me lo lascio il capitolo 2 allora ragazzi lui non sa nulla no all'anno no perchè l'ho trovato sul ttoc ieri per loro e la mia mamma tic tac no l'ho trovato vabbè raga dico raga ora dico i suoi anni 3 ma lo sanno 1 a 16 lo sanno comunque raga raga scusate l'inconveniente però a schermo a destra vi lascio il video del capitolo 3 non ricordo se se l'inizio evento ma penso di no e andiamo in questo evento oppure non so se andiamo in questo evento capitolo 3 non so se andiamo in questo evento non so se Il trailer, cioè dobbiamo far vedere il trailer Il trailer ma lo faccio vedere con un programma di editing L'ho già fatto vedere Vabbè scusate che mi viene a volte dei lag Lo mettiamo al pc in carica Comunque vieni qua Che vuoi? Sì No No Pana Par area Un senso Per Con ma trail raga dai questo video parte per mostrarvi il trailer del capitolo 3 praticamente stiamo più o meno salutando la mappa per 2 3 giorni scusate mi dimentico sempre che io registro un giorno un giorno prima un po' tra meno mi stanno guardando 10 e cinque persone a un giorno ci sarà l'evento quindi preparatevi il live scuole per andare ma non c'è persone che mi vuole due persone quando non mi vuole un po' a 6 6 6 6 3 3 3 3 3 4 4 scusate il mio fratello drogato guarda io è rampino di solito nel casetto si trova il rampino ora ragazzi avete capito perché preferisco non registrare quando c'è il mio fratello scrivete nei commenti se l'avete capito ok il solare c'è uno qua muoviti però dovrebbe esserci uno qua penso mi sei mancato se ci sono due persone forse 2 o 1 non so ma c'è ancora una persona che mi guarda ho bisogno d'aiuto forza aiutami ho chiuso fantoschi c'è un altro lì dove nella montagna il 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 la il il dal del ultimo c se lo assicurati molti mi non posso farci nabbo vabbè io sono morto or intanto un po prodotto 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 di carlo mi rassi non posso scusate se avete sentito qualcosa del zoom perché avevo un tipo di singolozzo e certe volte mi arriva mi faccio quel camionello mi disso secondo te ho fatto l'arrivo no comunque ragazzo senso dopo questa partita ha distoppato non è già no Grazie. Ma ammazza. Ok. Du 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 du. Cosa vuoi? Raga comunque penso che il giorno quando c'è il capitolo 3 penso di non fare una live ozza. Ma penso soltanto di registrare. Cosa vuoi il brutto? Guarda che io sono più veloce del brutto. Me ne vado in AIG. Ma? Aia. Vabbè. Ma what? Trovo una cura? No. 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 non è fermo il brutto Fai scassato il Brutus O fai lo scassiamo ancora di più No Vieni, vieni Vieni, vieni Vieni, vieni Vieni, vieni Vieni, vieni Comunque, raga, per dire la verità non mi mancheranno per niente quelli del viceversa Comunque, prof, prof, nel... nell'evento ci saresti? Oh Vabbè, raga, ci troviamo in lobby Comunque, raga, eccoci in lobby E vabbè, vabbè, raga, per oggi tutto Ditemi che ne pensate del trailer del trailer proprio del capitolo 3 Che siamo tutti in hype, mancano a noi due giorni, a voi un giorno E raga, e raga, bensì, da mille stendini e prof, bene Ciao 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 Grazie.